Se prendi la penna e scrivi versi, sono versi degni delle muse. E così non ne hanno abbastanza di Lucrezia Borgia. No, e anch'io non so e non ho potuto dire tutto. Non è vero! Non è vero! Lo dici tu non è vero! Io penso, se in me moriese, io penso che se morissi finirebbe un amore così grande che tutto il mondo cesserebbe di amare. Volevo solo essere amata. Solo questo. Certo. Quello che hai detto è vero. O... poteva essere vero. Mi hai taciuto qualche cosa? Certo. E tu? Anch'io. Grazie a tutti. Grazie.